Cerimonia di premiazioni in municipio per la SD Bocce Mondovì che ha riportato il capoluogo monregalese nella massima serie nazionale dopo 27 anni. Una festa per Mondovì e per le bocce di Mondovì che dal 91 mancavano dalla Serie A. Una premiazione decisamente importante, un'impresa direi anche epica viste le ambizioni iniziali del Bocce Mondovì. Ricordiamo comunque che la Federazione Italiana Bocce, questo nuovo corso eletto da un anno, punta sul settore giovanile, punta molto a entrare nelle scuole con le bocce. Abbiamo un progetto che vedrà impegnate 75 scuole in tutta la regione Piemonte in questo momento e contiamo di ampliare il numero molto molto considerevole. Devo ringraziare i giocatori che comunque ci hanno portato a questo in merito vittoria e speriamo che il prossimo anno di riuscire a fare bene. Adesso abbiamo fatto anche una campagna acquisti per giocatori ancora superiori perché il campionato dell'A è completamente diverso, molto più competitivo. Stasera festeggiamo ancora in bocciofila lì da noi e poi da domani se rimbocchiamo le maniche cominciamo di nuovo con gli allenamenti, preparazione, squadre. Speriamo che quest'anno 21 ci aiutino anche il comune, le fondazioni e tutti a poter fare in modo di poter ricevere queste squadre, questi campioni che ci sono nelle bocce, di poterli ricevere degnamente nel nostro locale, nel nostro centro sportivo. Sul risultato di oggi invece? Beh è una cosa bellissima, essere stati ricevuti qua dal sindaco è un'onorificenza eccezionale. Ma chi sono costoro?